Orpita sincronizzata Lancio Hellborn, avviato Ci siamo, questo è il compito solenne per cui siete nati Dipendete la democrazia a ogni costo Equipaggiamento in arrivo Obiettivo secondario in prossimità Stratagemma critico disponibile Stratagemma critico Elemento tattico nemico nel raggio d'azione Alveare di termini di distrutto Questa attraversa Questa attraversa Un po' di servizio Grazie Arriva la cavalleria! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sì, sì. Alveare di Terminiti distrutto. 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 Grazie a tutti 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 30 secondi Grazie a tutti Bellican 1 Grazie a tutti Grazie a tutti